Ciao! Penso che è importante preservare in se stesso spazio per queste parole, ma a tua voce metto le rette. Quindi faccio tutto che è possibile fino a penso che ragione vuole, ma lascio spazio per queste parole che mi dicono che prova ancora. Posso stancarmi tanto, fare tante cose, arriva il momento come non posso più, penso non ha più senso, ma se lascio in me stesso questo spazio per suonare e per ascoltare, per recepire e mettere in pratica queste parole, forse trovo la forza a provare ancora. Non sempre dobbiamo provare ancora, ma dobbiamo avere e lasciare questo spazio, così può venire parola quando può. Quindi io parlo di solito come il secondo fiato, il primo si finisce come benzina nella macchina, va via, non hai più possibilità, ma lasci aperto il spazio che viene e sarà ancora riempita. Così capisco oggi le parole e avevo nella vita tanti momenti in quale non potevo più, ma il secondo fiato è arrivato. Grazie. 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 Grazie.